Mi chiamo Terenzio, sono di Forlì, sono uno psicologo del lavoro e formatore comico. Come psicologo mi occupo di orientamento, in particolare di personal branding, cioè come sostenere le persone nella ricerca del lavoro attraverso social network e videocurriculum. Come formatore mi occupo di formazione e intrattenimento in ambito aziendale, sociale e sanitario, con lezioni spettacolo sullo stress, lo stress della vendita, lo stress della comunicazione, lo stress e la gestione dei conflitti. In particolare ho scritto anche un libro che si chiama Felicemente Stressati. Quando svolgo le mie lezioni spettacolo utilizzo le mie competenze di trainer di yoga della risata e di cabarettista. Come obiettivi mi piacerebbe poter aprire e diffondere più club della risata. I club della risata sono dei luoghi dove le persone si trovano a fare yoga alla risata per la gestione dello stress e per socializzare. Poi recentemente ho avuto l'opportunità di svolgere la mia lezione spettacolo per un'azienda di fronte a 1500 persone e mi piacerebbe poterlo fare per un pubblico più ampio. Infine mi piacerebbe portare avanti un programma quotidiano di yoga della risata, cioè delle pillole che ogni mattina servono per accompagnare le persone nello svolgere esercizi divertenti di respirazione, quindi di yoga della risata, per poter essere più efficaci e affrontare meglio la mattinata sia dal punto di vista delle relazioni sia dal punto di vista professionale. Il mio sito è www.terenzio.net. Grazie a tutti e molto bene, molto bene, yeah!